La prima edizione del Trofeo Iopra ha incoronato allo Smash Paddle & Beach di Baia Flaminia l'abilità alle racchette di paddle di Roberto Forni e Andrea Banci che hanno battuto nella finale maschile di domenica sera Andrea Massanelli e Marco Nobili, così come Sofia Calcinari e Delisa Lenti hanno avuto la meglio in finale femminile su Laura Carloni e Isabella Ponzio. A vincere però non sono state solo due coppie di sportivi ma un'intera città di Pesaro capace di organizzare la prima partecipata edizione di un torneo di beneficenza il cui ricavato è stato devoluto all'assistenza ai malati oncologici dello Iopra. Un torneo apparecchiato grazie ad un'idea della consigliera regionale Micaela Vitri assieme all'organizzatore Leonardo Stacchiotti e ai soci del complesso sportivo Smash. È stata una giornata di sport e solidarietà ma soprattutto di festa perché qui allo Smash Paddle in Baia Flaminia sono arrivate circa 100 persone per giocare ma soprattutto per contribuire a una causa importante, sostenere lo Iopra, l'istituto pesarese che assiste i malati oncologici nelle proprie abitazioni. Il Consiglio regionale ha voluto patrocinare questa iniziativa partita dallo Smash grazie a Leonardo Stacchiotti che ha messo in piedi davvero una macchina organizzativa perfetta a cui hanno contribuito tanti partners dal Lions Club ai commercianti e titolari di tante attività a Baia Flaminia, tutti coloro che sono entrati oggi in campo e che quindi hanno donato l'iscrizione allo Iopra e poi tutti coloro che sono arrivati qua per una giornata di festa. Tra i partner ovviamente anche Rossini TV presente a questa iniziativa a scopo benefico per cui vale la pena davvero ringraziare alla fine di questa giornata tutti coloro che hanno partecipato. È stata una bellissima giornata di beneficenza ma anche di divertimento per tutti quanti, tantissima gente che non aveva mai giocato a puzzle si è appunto buttata in campo ed ha provato a giocare, un gran divertimento quindi è stata una cosa positiva, di due i sensi sia a livello di beneficenza sia a livello di divertimento collettivo. Abbiamo fatto tante donazioni allo Iopra che era l'obiettivo principale e le persone sono venute, si sono divertite e hanno provato le nostre attività donando qualche cosa allo Iopra. quello che abbiamo potuto fare per cercare di venire incontro ai volontari che tutti i giorni si adoperano per aiutare i malati. Alla soddisfazione degli organizzatori si è accompagnato lo spassionato ringraziamento dell'OIopra. È una cosa molto importante perché l'OIopra vive di questo e dell'aiuto che ci viene dato da tutta la città. Noi siamo una onlus nata a Pesaro nell'87 e quindi abbiamo operato sempre a Pesaro per il bene dei nostri pazienti assistiti che quando escono dall'ospedale. Continueremo grazie a questo contributo nella nostra opera e mi auguro sempre che ci siano ancora tanti aiuti da parte di tutti perché viviamo di questo. Il Trofeo Iopra è alla prima edizione ma è destinato ad essere accompagnato da tante iniziative di Paddle anche nella prossima stagione autunnale e invernale. Quest'inverno noi lo Smash proporremo un'accademia seguita da me più altri istruttori e cercheremo di organizzare anche degli eventi per tutti gli amatori e agonisti del nostro circuito. Per quanto riguarda invece il 2 ottobre stiamo cercando di organizzare un evento con i sordomuti sempre a scopo benefico per cercare di creare un ambiente più disteso e divertente possibile per tutti e per tutte le età.